Musica 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 Pagliare la parte Musica Tesa Musica Musica O l'ha visto che lì, il mondo è lo stesso. L'ho visto che l'ho visto. Sogno significa come sei sognato. La soglia è qui. La soglia va in un'ustralia e in un'esca. Io sono un modo di canto. Mi sono visto lì, senza bisogno di ascoltare. E ascoltare a te, fino a un'altra figliolata. O fa bene. O fa bene. Guarda, si imparava quando lì. Esatto. L'ho visto che sei sognato. L'ho visto che sei sognato. L'ho visto che sei sognato. Che hai dito? Sono lezime per parlare. O salto. E poi c'è così. Sai che sei mai che vedi. Papà, speri che sapevo. Che stai lì, che stai lì. 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 Lì non mi sono uscissi. Ma salto il mio stesso. Ma è il mio stile che non è. Ce l'hai con tuorri. E non mi fa poco a casa! Valla, battente, se non fa poco, a tutte che ti è raiverto. Tu hai studiato, io no, ma non puoi dire, ti posso dire la mia cosa, sei se noi ci studiamo, e poi ti hanno visto una mente, ecco qua, io sono una mente di cose, repentine e istantane. Eh, come la voglia di fotografia. Perchè? Perchè ti stai a rubare la mia cosa? Ti stai a rubare, ti stai a rubare, ti stai a rubare, ti stai a rubare, ti stai a rubare. Senti, tu non mi piace, sei brutto, sei ubbidico, ma quante volte la tua cosa? Non mi preferisci. Non te lo dico più. Eh già, non te lo dico solo. La ragione vera, non è questa, ma pensi un'altra. La ragione vera, è che mi fa bravo, ed io poi ti vanno insieme, ma non vanno. Oh, tu d'essere, ma non vanno. Ma tu stai a rubare? Ci stai a rubare, ti 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 stai a rubare. Io sono andato a rubare, ti stai 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 Io mi sono qui una domanda per voi, scopro me, che è inutile che non faccio la scena, basta te, dita sta casa, ma andiamo in chiuso in un'unica società che non stanno. E' un'altra, e che t'hanno quattro figlie, un po' di te, ma l'altro a me, che hanno tanti vicini, un povero uomo, che è diventato spazio nel quartiere, e che essa non sta bene. Noi voglio farlo veramente, non sei pazziato, ma questo ciò che faccio stamattina, si sembriate. Mi chiedete che faccio dei clamori, voi vorrei riuscire a chiedere, dite un po' di cosa. Dopo lavoro voglio, e con il padre, 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 però voglio bene, e c'è più cosa, non fanno male a Sam. Un camarada, di amico e intimo, e come tale mi sono anche di guarda, a gente, e l'altro la fa, io ho una coscienza apposta. Del resto, ne, sono ancora giovane, non sono riscatto un altro, non è che coscio storto. E' naturale che come quest'ora gentile si interessa a me, a Maritomo la festa fa piacere, piuttosto, avesse essere stato un'attenzione particolare per me, e invece non mi pensa proprio. Stavattina, ad esempio, non c'è la facoltà di quiz, con la direzione dell'attenzione urbana? Chi? E ce l'avevo detto che cosa è piaciuta assai? Com'è? Chi è stato chiamato il direttore di persone? Non c'è problema dell'ascoltà, stanno presentando la moglie alla pizza. Tutto bene in chiacchia, e tanto sono sempre io a parte di casa. Ma tu dici da un silenzio? Sì, mi c'è, tu vuol tanto bene. Danno qualcuno, stravenso il silenzio. Buona stella. Buonasera, signor Corporato. Buon servitore, benissimo. Buonasera, signor Lufino. Eh, buona a voi. E' stato conto? Stato bene. Stato bene. Guarda, sei venita a sta casa. Non s'ha dei maiebre. Non so. Ci devo dire quattro parole, con messaggi di cilisone. Oh, sta vivo perché mi dà una facile. Ma la vostra è un'ondulazione. Quella c'è un po' di distruzione, più leviate. Sono graduale. E quindi sono stato costretto a non fare tanti cose. Callate. No, vissi, dalle nuove. Questi amici che sono tutti interessi. I quanti sono stati trovati. E si vengono a andare. Tutto. E io mi devo concedere. E voi mi ha concedere. E voi mi ha concedere. E voi mi ha concedere. Ecco la bestia con la buona busta. Esco con il presentamento. Ecco coloro che è tutto il mondo. Non so. Che domenica. Noi. Allora. Noi. Ma che si era no? E se lo parlo mai un'occa? Eh, ma voi dovete perdonare, mi devo volo qua giù, ma non so quanto mi ha avuto il tuo errore. E' una bestia con la bocacuccia. E' un po' il tuo cuore, ma voi dovete perdonare, mi devo volo qua giù, ma voi dovete perdonare. Se non è successo, ma voi dovete perdonare. Ora, ora, ma come ti ho usato io ho fatto? Ma sei o non sei un genitino. Ti devo pagare una altra cosa per vendere, e tu hai la prontò con l'ho in Italia, e mi lo so. A me lo so, e me lo so. E allora, lai stai a stare, allora, scusa, la facciamo allora, tu è nel signore di Renato. La Sassan, 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 la Sass Voi mi dovete fare da testi di moto? Eh, come sembrano mali confetti. Avete capito? Eh, non più mai ci stanno. Ma tutto che? Tutto. Ma invece se io pensiero non è errato, io vedo di aver capito, ma da quel signore che sono, mi dicono che se avete da fare proprio una mazzina, non è giusto e non è trichitotto. Voi, vedete un contogulo isolato, come si dice? Tepepe! Tu, a te tutto va. Ma non lo mi duc tu bube, duc tu bube! Voi, andate, 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 andate. Anche, siamo confuse. Io ho confuso il calore della Briss, non ti scivito, anzi, ti scivito a poco. E io ti portaici lì. Portaici, è un contesto lì. È un porto finale. La ragione, la ragione. La ragione, la ragione. La ragione, la ragione.